la musica facciamo un concerto in cui dopo ci vuole una settimana per ritornare vivi e chiudiamo questi qui sono i feromonas però come cazzo li pronuncerà poi? domani si farà l'ecografia non ti piacciono tanto a te i feromonas questo è carino quando ero entrato la con un sottio ombra era molto poco questo è meglio i wow certo, non possiamo dirglielo ma i wow quelli svedesi esisteranno i wow tre gruppi wow warcraft è quello ma infatti è in onore di quello il nome nostro ciò degli appassionati di giochi di ruolo tre anni di preparazione al disco black metal, dead metal non c'è una rapida nulla dietro il dead metal la batteria le divisioni la più veloce con il dead metal ma è come per la musica elettronica quindi cioè in base alla batteria quanto lo spieghi guarda tutte le musiche che te non capisci è perchè probabilmente c'hanno tre mila sfaccettature tre mila sfaccettature non hanno decidi levi metal è tutto uguale eh no no se usi il charleston già è un altro un genere musicale